Buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, oggi è lunedì 13 novembre e questa è la rassegna stampa in diretta sul canale 17. Ben ritrovati, allora cominciamo subito dal santo di oggi, vediamolo con la grafica, oggi è Sant'Abbone di Florì, Abate, il sole è sorto alle 6.49, tramonterà alle 16.54. Ok, andiamo a vedere il tempo perché per oggi c'è da dire parecchio, nel senso che ci attendono due giornate piuttosto importanti dal punto di vista meteorologico, sono giornate difficili con precipitazioni che stanno già scendendo, abbondanti su gran parte della regione Marche. E per oggi, sia per oggi che per domani, insomma avremo tutto un insieme di fattori che faranno sì che la nostra regione sia interessata da fenomeni intensi di pioggia e anche neve, come vedete dalla grafica della protezione civile delle Marche. Allora, andiamo con ordine, durante le ore centrali avremo deboli rovesci sparsi, solo localmente a carattere temporalesco, dalla serata le precipitazioni si concentreranno sui settori nord della regione in forte intensificazione, quindi da questa sera, oggi pomeriggio, questa sera ci sarà tanta, tantissima pioggia, limite delle nevicate attorno a 1000 metri durante la giornata, ma in calo verso sera sui settori nord settentrionali della regione il limite delle nevicate sarà attorno ai 700-800 metri. Le temperature sono minime, quelle localmente stazionarie, mentre in diminuzione sui settori montani e sui settori settentrionali della regione saranno appunto in diminuzione, le massime invece in marcata diminuzione, quindi dimenticheremo tutta la bella giornata di ieri anche soleggiata a quasi 18-19 gradi. Allora andiamo a vedere invece il tempo per domani, martedì continua a piovere, al mattino avremo precipitazioni ancora intense sui settori settentrionali, quindi il Pesarese, Anconetano Pesarese, poi la Romagna, nel corso della giornata queste precipitazioni domani saranno sparse, prevalentemente di debole intensità nella parte interna della regione, in possibile forte intensificazione dalla serata sui settori meridionali invece. Allora le temperature anche domani saranno in ulteriore diminuzione quelle minime della notte, le massime invece saranno stazionarie, tempo perturbato ancora anche per la giornata di giovedì. Poi sapete insomma la protezione anticivile a giorno e lunedì mattina, quindi questa è la previsione di sabato, ma comunque non si discosta molto, le ultime previsioni parlavano comunque ecco di questo, di un peggioramento intenso oggi e domani. Allora andiamo a leggere il Corriere Adriatico, la prima pagina, l'edizione di Pesaro. Si parla dei furti, i furti all'ora di cena, sono stati rubati i monili per 30 mila euro e tutto questo è avvenuto in quattro abitazioni, da un garage spariscono addirittura canne da pesca e un fucile. Allora, questi predoni d'oro, ma anche di canne da pesca, con il bottino che si aggira intorno ai 30 mila euro, è un incubo furti, quello dell'ora di cena, con i proprietari di casa che si allontanano dalle abitazioni e si ritrovano a mare sorpresa al loro ritorno. Si tratta di tre furti tra Pantano e Monte Granaro a Pesaro, probabilmente la stessa banda, hanno utilizzato la medesima tecnica, scegliendo appartamenti al piano terra oppure al primo piano e va detto che questi sono i mesi più difficili per la sicurezza perché a metà pomeriggio è già buio e le bande di ladri scelgono questo momento per colpire. Poi la tragedia, centro pagina, la vedremo tra poco nelle pagine interne, ieri pomeriggio in un frantoio a Corinaldo, un bambino è precipitato nel pozzetto ed è morto. Florin, cinque anni, vola tra i liquami, il padre cerca di salvarlo, poi l'arrivo dei pompieri. E le pagine interne sono quelle di oggi, di lunedì, tutte dedicate allo sport, con l'ennesimo KO per il Fano, mentre la Vispesero continua la sua corsa, bene il basket, la VL supera Brindisi, con una ripresa eccezionale. La Valle del Cesano invece, la cronaca, auto con cinque ragazzi a bordo, si schianta sulla pensilina, è successo a Marotta, la Lancia si è ribaltata davanti al bar centrale alle 4.30. Passeggeri miracolati, tre feriti lievi soltanto. Fortunatamente il locale era chiuso e sulla Statale 16 non c'erano altri mezzi sul posto, sono intervenuti i vigili e due ambulanze. Oggi invece il Corriere Adriatico ci ricorda che c'è il funerale di Davide Mattioli alle 9.30 di questa mattina, con partenza alle 9 dall'obitorio di Fano, si terrà alla chiesa San Giovanni il funerale di Davide Mattioli, il giovane morto per overdose che sarà poi tumulato a Secchiano di Cagli. A Terre Rovedesche invece si discute sulla scelta del nuovo patrono, si scalda la consultazione popolare, sprint a tre fra San Pasquale, San Tubaldo e San Giovanni. Scivola in un pozzetto, precipita nel vuoto, un bimbo di 5 anni muore a Corinaldo. Il dramma, questa è la fotografia scattata mentre l'ambulanza si reca sul posto, sul luogo, nel frantoio, Florin era con il papà, la zia e la nonna. Hanno portato le olive aspettando poi di ricevere l'olio. I tre adulti sono seduti mentre il bimbo è dietro a loro, all'improvviso cade in una vasca di discarica del frantoio, fa un volo di 4-5 metri, il papà si lancia nel tentativo di afferlarlo ma Florin non riesce a prendergli, ad afferrargli la mano. Terribile davvero. Il bambino all'inizio grida aiuto, poi smette di parlare dopo aver respirato le esalazioni tossiche. Arrivano i soccorsi ma la corsa in ambulanza verso l'ospedale è inutile, il suo corecino ha smesso. Di battere. Una tragedia davvero immane. Il piccolo ha resistito all'impatto ma come dicevamo non alle esalazioni. La pagina di Fano pronto ad accogliere i litiganti. Questo è il virgolettato che si riferisce al sindaco di Fano che interviene sulla chiusura del grande gruppo Facebook per imprecisata intimidazione all'amministratore del social network. Stiamo parlando di un gruppo, ho chiamato la Fano che ci piace o non mi piace, che aveva un discreto numero di persone. Il sindaco Seri tira in ballo i rapporti tra Cespuglio e Mazzanti che commenta deplorevoli le minacce ma sarei curioso di leggerle. Come dire, non ci credo. Il post invece del consigliere Santorelli chiude, dice, un anno e mezzo prima delle elezioni cercando compassione. Perché va detto che Gianluca Cespuglio che è il fondatore di questo gruppo, l'amministratore di questo gruppo, la Fano che ci piace o non ci piace, è comunque legato a un movimento politico di sinistra, la Fano dei quartieri e dunque in molti a destra, oggi nel centro-destra, non rimpiangono affatto questa chiusura, anzi ne approfittano per stigmatizzare alcune situazioni, alcuni comportamenti, atteggiamenti che chiaramente un amministratore gestendo una pagina così affollata può aver commesso nel corso dei mesi. Tutta la vicenda la potrete leggere sul Corriere di questa mattina. Poi il Comitato Lido invece, fiducia finita, solo promesse ad un mese di distanza dall'incontro con Fannesi, si attendono interventi e quelli del Lido, il Comitato Lido, chiedono interventi, soprattutto dal punto di vista dei lavori pubblici, Cristian Fannesi era intervenuto, aveva parlato con i residenti, i residenti avevano chiesto l'esecuzione nel più breve tempo possibile di alcuni interventi che potevano essere fatti con poca spesa e in realtà ancora pare che appunto non si sia mosso granché. Allora da Fano, pagina 12, da Atene a Sparta, andate e ritorno, nuova impresa per il finanziere Paolo Aiudi che gareggia in una gara di corsa a 54 anni, correrà, pensate, qualcosa come 490 chilometri in 4 giorni. Davvero un'impresa incredibile che però cercherà di raggiungere appunto questo concittadino. Non posso sapere come sarà, l'anno scorso mi sono operato al tendine di Achille, pensate, quindi sarà ancora più difficile, ma sono sfide belle. Giornata del diabete invece, controlli gratuiti dalle 9 alle 13, porte aperte nel padiglione dell'ospedale Santa Croce di Fano per consulenze e visite. Allora, se l'avessero fatto dopo Natale sarebbe stato un dramma, farlo prima già un pochettino, tutti dolci. Allora, oggi all'ospedale di Fano, in occasione della giornata mondiale del diabete, porte aperte negli ambulatori della diabetologia dalle 9 alle 13 per la consulenza medica e la valutazione del profilo di rischio. Quindi se volete andare lì, come vi abbiamo già detto anche nel nostro telegiornale qualche sera fa, insomma, potete andare, non c'è bisogno di prenotazione e soprattutto è gratuito. Andiamo a leggere la pagina di Urbino del Corriere Adriatico, i titoli. Allora, i Dem ripartono, Santi include l'ex Scaramucci e detta le linee. Il nuovo segretario del PD illustra il nuovo corso, seguire il partito, discussione e democrazia. A Qualagna da record, aspettando l'Immacolata, ho ancora migliaia di presenze per la chiusura della fiera del Tartufo. Tartufo che torna l'8 dicembre, proprio il giorno dell'Immacolata Concezione. Dalla pagina romagnola del Corriere Adriatico, sfida del gusto tra le proloco, folla golosa a Mondaino, migliaia di visitatori a Fossa Tartufo e Venere, con Gemmano battaglia all'ultimo Mattarello. Andiamo sulle pagine sportive adesso, per dirvi che il Fano ha perso purtroppo contro l'Albinoleffe, quindi resta in fondo alla classifica. Fano solito triste finale, niente da fare anche a Bergamo, prima sconfitta per la gestione Brevi, che è il nuovo allenatore dopo Cuttone, assegno a Colombia e Mondonico, prova in colore dei Granata che restano ultimi in classifica. E che cosa dice Brevi, il nuovo allenatore, dopo questa sconfitta? dice la squadra non è serena, il mister del Fano non siamo partiti male, ma ci siamo fatti sorprendere ancora su palle inattive, c'è da lavorare solo per migliorarci, il gruppo va ricostruito, soprattutto a livello psicologico, atletico e tattico. La VL, il basket, quindi andiamo a Pesero, la VL vince contro il Brindisi per 80 a 75, Brindisi avanti anche di 10, poi Pesero però gioca una ripresa eccezionale e piazza la zampata decisiva. Le giocate di Mica e i tiri liberi negli ultimi secondi di Moore trascinano i padroni di casa alla vittoria. La Vis-Pesero, il calcio dunque di Serie D, subito, mette subito la freccia, la Sangiustese superata di slancio, Sangiustese che in casa perde dunque 3 a 1 contro i Pesaresi che volano su 2 a 0 con Caccioli e Radi in 8 minuti, mentre Proesmas riapre il derby e poi Ficola lo chiude e dunque Vis-Pesero che continua la scalata in classifica. Noi dobbiamo fermarci qua perché come testimonia questa videata del monitor della nostra rassegna stampa, poco fa ancora il resto del Carlino non era scaricabile nella versione PDF, purtroppo il resto del Carlino continua a non fornire un servizio per il quale paghiamo un abbonamento anche piuttosto salato, quindi bisognerà cominciare a pensare di chiedere il rimborso perché comunque i disservizi ce ne sono parecchi, questa versione online non funziona, non si riesce a scaricare il PDF e quindi siamo costretti a non leggervi il Corriere Adriatico. Scusate il resto del Carlino, comunque poco male. Andiamo a vedere l'allertamento invece per la giornata di oggi, lunedì 13, abbiamo già detto che la provincia più interessata da pioggia abbondante ed insistente per molte ore saranno, la provincia sarà quella pesarese urbinate, questi settori saranno sferzati da vento fortissimo di bore che potrebbe causare anche danni alle strutture, mentre la giornata di domani sempre le marche saranno la regione più colpita da piogge insistenti e abbondanti, dunque prestare attenzione sia a cose che alle persone. Questa è l'allertamento che abbiamo e che lanciamo questa mattina ricordandovi anche il nostro gruppo reporter di strada 338-4968-250 anche con WhatsApp, potete inviare video, foto e segnalazioni. La rassegna stampa si conclude qua, naturalmente chi conosce Fano TV sa che siamo sempre in queste situazioni in allerta e dunque se ce ne sarà bisogno apriremo le nostre finestre informative da questo momento fino alla fine di questa allerta meteo, quindi qualsiasi ora del giorno e della notte entreremo e andremo in diretta per aggiornarvi sulla situazione del tempo, sperando chiaramente che non ce ne sia bisogno. Se non ce ne sarà bisogno ci vediamo questa sera alle 20.30. Buona giornata. Grazie a tutti.